eccoci bella a tutti l'altra eccoci qui questo pomeriggio ci siamo io e mio fratello che giochiamo a brawl stars è anche cambiato e ho trovato adesso gelindo è spaz a 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 weekend league di mi raccomando che ci tengo a 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 altra vittoria a l a e s i i Questa è la raccoglione! Guarda! 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 Oh Aspetta Da fare qualsiasi Se le consiglio? Finci tre partite consiglio E poi arrivo a 400 e arrivo a 20 Ottimo Aspetta Ma perchè ce l'hanno questi qua? Che l'hanno? Questa perchè erano 20.000 copp Ando scendo Ando scendo Andate come fa No 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 Palpatine Aspetta Adoption Questa Sperto Quelle Applaus Grazie a tutti 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 Oh mi stanno rubando due kill e kill Oh raga l'ho dirubato Un kill Ma c'è l'aggiornamento? Si bro c'è l'aggiornamento Si c'è l'aggiornamento bro Si No 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 nobody's nett Tag ms No 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 Il 5 esce il brawler Oh oggi hanno fatto l'aggiornamento completo Esce pure il pass Sì, sì. non batto non batto non batto non batto non batto ma è l'evento una bassa cucca quindi mi è a livello 60 finisce tra 3 giorni 20 minuti ancora non 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 il ma ma è è è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Alla prossima ragazzi agli 5 cambiamo il gioco andremo su finita per vedere l'ultima qualificazione la Wagon League no volevo ribarmi la giro no ci muoio ci muoio ho schieno il colpo e ci muoio ho schieno il colpo e ci muoio si muoio ci muoio cino nino fortissimo come è possibile come è possibile ok ciao x troll ciao come è possibile come è possibile come è possibile oh grazie si ma sono qui oh ma quando? quando esce dello scioppo? esce dello scioppo? ma io non ho tre armi io non ho tre armi non ho tre armi cosa? eh ma vado a vedere ma fa questa partita vado a vedere lì oh no ti devo colpire scura di te tutto a due oh no oh no no secondo me la mettono quando esce il brawler nuovo secondo me la mettono quando esce il brawler nuovo qua sicuro? brawler bravo bro sacrifica me bro sono in perro braw braw più stretto bello quattro partite e prendo 500 stavo facendo stavo facendo un box ragazzi fra mezz'ora staccherò la live per tornare a giocare a FIFA e ah che E' una moneta di oro Non è che tu parli la guida, tanto la guida è la prima E' assolto come cosa sta facendo con sto genio ragazzi vittoria e e e e e e Sì, 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 sì. se non è un iris, è un colto, non è easy è l'esporto Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, quasi tutto pronto Oh, ma ho fatto sto per fare una tripla missione Capito? Oh, maxi Molina? Oh, grazie a tutti Oh, grazie a tutti Oh, grazie a tutti Oh, grazie a tutti Molchissime cose E ho finito Negozio E non è una cilindra? Ah, ok Quindi domenica No Bello Oh, grazie a tutti 36 36 33 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 ah no, devo vincere, non so da qui, non so no no, me ne vado, non so oh cazzo, pure missione non so non so non vale questo discorso, non è devo arrivare terzo, se arrivo terzo non so, finisco la missione non so 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 non non so non 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 so 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 qua che stava? eh ma però perché loro ce l'hanno? non so non so perché loro ce l'hanno? ragazzi adesso ci trasferiamo su fifa